Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News This episode is brought to you by Starry. When you drink Starry Lemon Lime Soda, every sip is a win. Perfect for game time, or any time. It's a crisp, refreshing Lemon Lime Soda that's caffeine free and bursting with flavor that makes you go... Starry Hits Different. Find it in stores or online today. Eccoci qua. Prima serata live di X Factor. Quest'anno forse farò a fine di ogni live un riassunto. Perché un attimo bisogna fare un punto. A me quest'anno X Factor piace molto meno dell'anno scorso. Sia chiaro. Nonostante l'anno scorso non è emerso nessuno. Quello che ha fatto più ascolti Blind, che comunque un anno dopo lo troviamo con 300.000 ascoltatori mensili. Quindi comunque deve iniziare a sfornare nuove hit perché altrimenti a breve con la musica non ci camperà. Per il resto abbiamo un gruppo di ragazzi che sono usciti, che magari non stanno facendo grandi ascolti, che magari non sono rimasti sulla cresta, ma che l'anno scorso, al di là della qualità delle loro canzoni, hanno portato un qualcosa, sono rimasti. Quest'anno già dalle audizioni mi mancava qualcosa. Ci sono delle perle rare, come Fellow, come Erio, come Gian Maria, la stessa Anika Paris. Ci sono delle perle. Ci sono dei ragazzi che vanno seguiti, che hanno un qualcosa di interessante. Ma molti di questi, in questa fase dei live, me li sono pure persi. Vi faccio l'esempio di Erio. Quando ho ascoltato Amore Vero all'audizione, io mi sono commosso, ero col fiato sospeso, e nei giorni a seguire quella canzone mi ha influenzato nella mia vita quotidiana. Quel concetto, quella purezza, quella roba lì, mi ha toccato. La revisione live, così complessa, così moderna, così rilavorata, semplicemente, di questo brano che era semplicissimo, non aveva bisogno di niente e funzionava, non mi ha convinto pienamente. Questo non vuol dire che non sia un pezzone, questo non vuol dire che appena esce non me lo vado a mettere in playlist, questo non vuol dire che è cambiata la mia percezione di quest'artista, resta il mio preferito di X-Factor, resta quello che secondo me merita di vincere, e non vedo l'ora di ascoltare un altro inedito o altre cover. Però, l'abbiamo un po' snaturata la canzone, non lui, perché lui sto genere lo fa così da sempre, visto la roba vecchia. Abbiamo snaturato la canzone, che invece doveva restare essenziale. Questo è un esempio, per far capire che, se a certe persone, come i Bengala Fire, l'impatto live, li ha proprio stravolti, li ha trasformati da, da delle nullità, cioè tu li vedevi e sembravano delle nullità, non lo erano, ma sembravano, quattro scappate di casa, a delle superstar. Quindi se a qualcuno gli ha fatto bene l'impatto live, a qualcun altro un po' meno, secondo me. Perché la bellezza di Erio era proprio che, c'era questo nessuno che ti cantava come fosse Gesù Cristo. Il modo in cui ha cantato stasera, si vedeva che c'era della consapevolezza. E questa è la prima cosa, che mi viene da dire, andando sui singoli artisti. Partendo dal presupposto che su dodici artisti, me ne piacciono veramente pochi. Vale l'E.P. ad esempio a me è piaciuto tanto, l'ultimo inedito che ha portato Porcella, quella è veramente notevole. Ma non Cherie. Cherie, come testo non vale un cazzo. Come canzone, vale qualcosina in più, perché c'ha delle belle linee melodiche in un certo punto, ma onestamente sufficienza. Per me andava portata Porcella. Senza dubbio. Lei l'ha cantata bene, l'ha fatta sua, c'ha la cazzimma negli occhi, proprio perché l'ha fatta sua. Lei mi piace, ma non mi piace questa canzone. Ed è il motivo per cui non ha convinto il pubblico. perché se lei portava Porcella col cazzo che non convinceva. E questo è il discorso. E questo è un errore di Emma. Questo è un erroraccio di Emma, punto. Ha sbagliato, ha sbagliato completamente secondo me. Ha sbagliato proprio da coach, da mister. Devi capire. Così come ad esempio Manuel ha saputo valorizzare appunto i Bengala Fire e diciamo che ha portato il suo mondo e non si sa che ci ha visto in quel cazzo di frontman dei Mutomia che invece secondo me non meritano di essere lì qualitativamente parlando. E questo è il discorso. Scelte un po' ecco un po' discutibili. Manuelito è quello che mi sembra più lucido. Quello che se ci sta da criticare anche se la critica non te la fa diretta perché siamo all'inizio lo percepisci. Quello che è sincero è quello che comunque è stato onesto con i suoi con i suoi ragazzi. Emma neanche la commento. Con tutto il bene non mi voglio incazzare. Cioè non l'ho commentata sulle scelte non la voglio commentare sui giudizi che ha dato. Ho fatto delle uscite si pensava di essere simpatica magari per carità. Emma che voi lo sapete io la stimo come cantante e c'ha anche una buona squadra toltele a cui per dieci anni si è vestito da donna. Non mi ha mai infastidito sta cosa. Ora mi spiegate perché invece l'endrigo non solo non mi piacciono ma mi fanno schifo. A parte che il punk nel 2021 proprio poi infatti è un punk pop perché? Perché nel 2021 non puoi fare punk. Il punk è un genere che nasce in un certo periodo e finisce in un certo periodo perché aveva senso in quel periodo farlo adesso vabbè notorietà televisiva gliela diamo. Le endrigo vanno avanti per il messaggio che portano che è un messaggio molto banale populista loro sono proprio populisti e questo è infatti l'orinedito è già online da tempo e scarseggia perché è un gruppo che lo voti perché voti il gruppo ma non perché ascolti la canzone bellissima comunque la scenografia quella veramente di qualità ha sollevato una performance che praticamente è stata anche buona non è che loro suonare suonano bene è quello che portano che a me mi disgusta cioè quello che loro vogliono dire lo dicono in un modo disgustoso e magari è questo che vogliono fare cioè il punk comunque deve fare questo quindi positivo che io mi indigno e mi facciano schifo cioè un complimento a tratti se state facendo punk state facendo pop però un po' meno che state facendo voi ah invece Varsail là Varsail come cazzo si pronuncia cioè ma io dico a me il pezzo è piaciuto da subito tu lo porti alla prima audizione passano tre mesi hai fatto 50.000 ascolti su Spotify anziché portare un nuovo inedito riporti quello vabbè allora allora non c'è capito un cazzo né di mercato né di pubblico ma soprattutto non vuoi andare avanti perché se tu vuoi fare la tua musica così come tre ragazzi della gente non vai al talent io faccio i miei dischi li metto quando faccio musica non li neanche promuovo non se li incula nessuno faccio il cazzo che voglio ma non vado al talent no e se dovessi andare a fare il talent o qualcosa del genere vado a portare un inedito adatto al talent qui c'è un errore del coach qui ecco Manuelito si è stato chiaro con i suoi però doveva capirla sta cosa lui che insomma lavora con macete sai com'è sai cosa vuol dire il mercato comunque magari mi sbaglio magari adesso viene rilanciato ma ne dubito comunque è stata una bella serata spesso mi sono annoiato qualche perla c'è spero che con le cover si recuperi perché comunque no porti delle belle cover si può si può alzare il livello perché non è un problema di aspetti singoli è proprio lo show in generale che quest'anno rispetto all'anno scorso ha perso ecco come la penso vediamo il futuro per adesso il mio voto 5 e mezzo l'eleganza incontra la tecnologia lancia y da oggi nei nuovi allestimenti oro platino ed ecocic gpl partono gli incentivi lancia gamma y hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione e dopo un anno puoi tenerla o sostituirla anticipo 1600 euro 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro tan zero tag 381 offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 dicembre